Buongiorno e benvenuti a questa è la segna stampa di oggi 25 settembre, vediamo che cosa è successo sul giornale di oggi. Vi dico subito, ma voi non vi allontanate da questa zuppa, non vi allontanate dal sito Nicola Porro, non vi allontanate insomma dal network di informazione che circola intorno a questi liberali, considerati un po' troppo di destra dai, come possono dire, dai compagni, come direbbe oggi Vittorio Feltri. Beh, insomma, non voglio negare che oggi i giornali sono, avete presente, due palle così, scusatemi la volgarità. Cioè ragazzi, non andate a comprare i giornali, oggi ne dico, fatelo sempre, perché io ancora campo i giornali, adoro i giornali, ma oggi voi capite per quale motivo uno debba spendere dei soldi per comprarsi un giornale. Oggi non ho trovato nulla, ma nulla! Ma io poi sono fissato, anche le piccole cose politiche mi divertono, nulla! Quel nulla cerco di dirvelo oggi in meno minuti rispetto a quello che faccio di solito, perché se no veramente anch'io divento noioso quanto i giornali. E quindi, prima cosa, ieri c'è stata un'assemblea del Movimento 5 Stelle e nell'assemblea del Movimento 5 Stelle non ci stava nessuno, cioè ci stava crimi, cioè nessuno, all'interno del Movimento 5 Stelle che si presentano in questa riunione in cui questi del Movimento 5 Stelle si arrabbiano. Non c'è nessuno però dei giornali che oggi potrebbero dire, ecco il ditino! Ragazzi, c'erano 300 scappati di casa, che se non fosse stato per Grillo, Di Maio e questi 4-5 ministri, oggi sarebbero ancora a casa scappati senza un euro. Quindi è inutile che fanno tanto i fenomeni, perché questi, se veramente sono disgustati da quello che succede, facessero cadere il governo. Non lo faranno mai cadere, per il semplice motivo, come scrive anche Sallusti oggi nel suo fondo, che questi, è inutile che si lamentano, è inutile che noi facciamo pagine, pagine, il Movimento 5 Stelle si lamenta. Ho capito, te lamenti! E poi, che cosa puoi fare? Una volta che ti sei lamentato, zitto e pippa, perché sei lì che ti prendi questi 10.000 euro, che sono pochi per un miliardario, sono un cacciatore, Suarez, sono tantissimi per uno che fino al giorno prima non faceva assolutamente nulla, motivo per il quale questo governo non cadrà mai. E questi si prenderanno, e noi faremo i titoli sul Movimento 5 Stelle che è in fibrillazione, non gli piacciono i capi, ma la realtà è che questi qua rimarranno attaccati alla poltrona, molto più di quanto rimangono attaccati alla poltrona i politici tradizionali, semplicemente perché questi hanno come alternativa zero e hanno come alternativa che non sanno come pagare i mutui al banco, alla filiale della Camera, dove molti di loro l'hanno accesi. Vuol dire essere antipolitici, questo no, vuol dire essere semplicemente realisti e capire quello che c'è scritto sui giornali. L'Assemblea del Movimento 5 Stelle irrequieta! E beh, una volta che si è irrequietata, si renderà più quieta dopo. Vabbè, fantastico. L'unica cosa interessante sono i numeri che porta Buzzi oggi, perché poi alla fine questa roba qui è straordinaria, che è il secondo tema della giornata. Noi stiamo facendo una specie di processo a Salvini, un processo al centrodestra, un processo a Lameloni, un processo ai Berlusconiani. Vuol dire, processi se ne possono fare a tutti, ma qua il Movimento 5 Stelle è passato da 20 consiglieri regionali a 3 consiglieri regionali. Se siete contenti voi, boh, contenti tutti. E i miei amici, quelli per i quali io ho dedicato questa camicia rossa di oggi, che non è ovviamente rossa, ma il PD li hanno perso una regione. Adesso possono anche fare i fenomeni, ma una regione che prima era il centrosinistra e oggi è il centrodestra, però tutti i giornali parlano della questione Lega e dei rischi che corre Salvini. Sì, ne corre i rischi Salvini come ne corre chiunque. Oggi fantastico Tito su Repubblica. Il Salvini è la grande anomaria italiana. Già sentita. Le grandi anomalie italiane non sono state il Partito Comunista, non sono state Carlo De Benedetti, non sono state, anche se volete, Silvio Berlusconi. No, la grande anomalia italiana è stata Salvini, ma è politicamente incompatibile con il governo grande del paese. Però questo, secondo me, il problema è che politicamente incompatibili con il governo di questo paese, per Tito e gli amici suoi, sono sempre le persone che non sono targate sinistra, sempre incompatibili. Una volta è Salvini, l'altra volta è Berlusconi, l'altra volta era Tambroni. Non ricordate Tambroni? No, sto scherzando. Tambroni andava un po' troppo indietro, che fece quell'alleanza assurda per, ovviamente, la sinistra per bene, con i fascistoni di Almirante. Ma comunque la cosa è questa. Dai, ragazzi, è chiaro che l'alleanza, il movimento di Salvini è sempre e comunque una grande anomalia. Perciò, sulla questione, diciamo, dei grillini abbiamo parlato. Sulla Lega ci sono le interviste. Gioggetti, che dice che il proporzionale sarebbe un disastro e abbia ragione, perché ora che hanno fatto la legge, hanno ridotto il numero dei parlamentari, dovranno fare una legge elettorale. Nordio dice cose molto interessanti sul messaggero, tra cui il fatto che c'è una scarsa rappresentatività e cosa comporta questa minore rappresentatività. Io sono meno drastico di lui. Ma Gioggetti dice una cosa, secondo me, più di pragmatica. Cioè, dice, ora faranno la legge elettorale. E siccome nella legge elettorale ci sono due partiti sfigati che sostengono questo governo, che sono l'EU, i comunisti, quelli che fecero, per esempio, il decreto della rigenerazione, l'articolo 10 del decreto semplificazioni, è diventato un decreto complicazioni, perché i comunisti hanno messo l'impossibilità di ristrutturare nei centri, e non solo nei centri città, ci sono i comunisti, dicevo, e i renziani, che hanno pochissimi voti. E quindi ci sarà un sistema proporzionale con uno sbarramento che sarà tanto basso per far entrare questi due. E Gioggetti, che è una persona pragmatica del movimento, ovviamente, di Salvini, dice, ragazzi, ma che stiamo a dire? Questi faranno un proporzionale orrendo. E poi intervistano Zaia, perché lì si vuole intervistare Zaia, perché dica quello che Zaia non dice! Quando gli dicono, eh, ma lei, Roma, dall'alto dei suoi voti, e lui dice, Zaia, ma la smettete con queste manfrine! Perché l'idea è che non solo quello là deve andare a processo a ottobre, Salvini, tant'è che oggi Repubblica dice che ci sarà un secondo processo, cioè non solo quello di Catania, ma anche quello di Palermo, per aver sequestrato in mare la, non mi ricordo, la Open Arms. Nel frattempo questi qua di questo governo ne sequestrano tutti i giorni, ma nessuno se ne accorge. Quindi Salvini ha un processo a Palermo, gli devono fare un culo così. Poi c'è i processi dei suoi uomini, Fontana gli sequestrano i telefonini, senza nessuna indagine, perché in quel caso gli hanno sequestrato un telefonino per Diasori, non c'è neanche l'indagine, gli prendono il telefonino e gli back-upano tutti i Whatsapp. È come se fosse una persona... No, va bene così. Quindi Salvini processo sui migranti, i suoi uomini tutti quanti a processo, Fontana è il più grande delinquente che esiste sulla faccia della terra. Poi non basta. Poi all'interno del partito gli devono fare un mazzo così. Zaia contro di lui, Giorgetti contro di lui, Zaia prende il 41% ed è contro Salvini. Però quelli sono tutti leghisti, iscritti del movimento dei leghisti, non cambia nulla. Zaia gli dice che non ce l'ha con lui oggi in intervista, ma ce l'hanno tutti con lui. Insomma, non c'è una roba? I commercialisti, inchiesta sui commercialisti vicino a Salvini che sarebbero dei truffaldoni incredibili, se non che c'è una perizia che dice che hanno comprato la Film Commission, quell'appartamento allo stesso prezzo di mercato, anzi a 20.000 euro di meno. Ma è così. Quando parte questa macchina non c'è niente da fare. E di fatti io trovo che sia divertente soltanto difendere non tanto il salvinismo di cui non me ne fotte nulla, io sono un liberale e del salvinismo mi fotte nulla, ma proprio è il procedimento con cui hanno fottuto Berlusconi in cui si fotte sempre qualcuno che non faccia parte di quella camarilla di persone a cui è tutto permesso. Zingaretti, uno di questi. E quindi oggi sentiamo Zaia che dice piantatela con questa manfrina, ma nessuno ovviamente gli darà corso, processo Salvini, Repubblica, e poi c'è Sallusti che dice di una sua cena con Berlusconi nel 2006 quando all'epoca aveva vinto Proti anche se non aveva voti per pochissimo e anche se i sondaggi sondavano molto male e disse Berlusconi come direbbe oggi guardate che questi governi non cadono perché l'opposizione non riuscirà mai a farli cadere perché quelli sono troppo affezionati alla poltrona. Sapete cosa serve? Un killer interno. All'epoca fu, vi ricorderete, quel voto incredibile di Turigliatto e la sfiducia di Mastella due tazzi a modo loro. Beh, insomma, oggi dice quindi Sallusti l'unico modo per cui questo governo possa cadere è che si trovi un killer interno come successo nel governo Prodi nel 2007. Direi che di politica c'è questo, di economia. i ministri di Grillini invece di occuparsi del loro partito giustamente si occupano del 5G cioè di questa tecnologia che soltanto qualche cazzone Novax pensa che sia relazionata al Covid molto più importante sulla tecnologia 5G è il fatto che sia invece una tecnologia cinese in gran parte e il governo in questo è in bilico perché c'è una parte filo cinese di questo governo quella di Mai e una parte filo atlantista di questo governo che non vede di buon occhio il fatto che si facciano troppo affari con i cinesi e quindi forse si userà la Golden Power e non si userà Huawei che è una delle cinesi che si occupa di questa roba qui ne parla oggi un po' tutti i giornali così come un po' tutti i giornali parlano di questa idea geniale per risolvere i problemi dell'Italia sapete qual è? Facciamo più pagamenti elettronici ma porca puttana ma dove vivono questi qua? Cioè questi mettono 3 miliardi che sarebbe un massimo di sconto cioè cashback di 300 euro per i pagamenti elettronici ma voi veramente pensate che noi risolviamo i problemi di questo paese ora subito immediatamente con i pagamenti elettronici figuratevi io sono assolutamente a favore dei pagamenti elettronici è ovvio che si debba pagare con i tap dei telefonini si debbano pagare con le carte di debito di credito quello che volete voi ma pensare che che si leghi la soluzione dei problemi di questi paesi nei nostri paesi da 5.000 abitanti dove non c'è più un negozio si leghino al pagamento attraverso la moneta elettronica è una roba da pazzi assicuro i nostri amici che ci governano che attraverso la moneta elettronica è molto facile comprare su Amazon ben venga Amazon ma non hai risolto il problema dei consumi italiani e dell'impresa italiana comunque altra minchiata di politica economica che continueremo perché ci destiniamo 3 miliardi poi facciamole queste cose per carità ma 3 miliardi non sono pochi soprattutto alla luce di una finanziaria che non è che i soldi sono infiniti come qualcuno pensa all'interno di questo governo del cashback quindi vi ho parlato della Lega vi ho parlato rimosso il cardinale Becciu per chi è interessato delle segrete cose vaticane a me ne fotte nulla è uno dei cardinali più amati scelti da Papa Bergoglio pensa un po' tu che poi scoprono che un po' di soldini 700 mila euro secondo un'inchiesta dell'Espresso oggi pubblicata da Repubblica si sarebbe imbertato avrebbe dato ai suoi parenti sti 700 mila euro ogni chiesa e paese sempre che questo sia vero però il Papa non ha voluto aspettare ovviamente le inchieste l'ha fatto fuori non da cardinale ma dai ruoli che aveva un po' complicati che non bisogna neanche dire beh poi ci sono due o tre cose che vi voglio segnalare ah no fantastico sull'economia altro che i 500 altro che il cashback oggi il messaggero ha quei cazzoni che ci governano ricorda come ci sono 500 mila persone che ancora non hanno ricevuto la cassa integrazione 400 mila sono artigiani che dal loro fondo mi scrivono tantissimi di loro e oggi per fortuna messaggero ho messo insieme i numeri 400 mila persone del mondo artigiano non hanno ricevuto i soldi perché il loro fondo da agosto non riceve i 375 milioni che ha promesso il decreto rilancio toc toc invece di fare le pippe invece di stare lì a pensare a Huawei magari sti 375 milioni che devono arrivare al fondo che poi paga gli artigiani perché non sono arrivati uno potrebbe andare e lo potrebbe chiedere a questi geni che ci governano perché poi ci sono 400 mila famiglie che non campano non pagano la spesa non pagano le bollette non pagano l'elettricità e tutti quanti noi ne paghiamo le conseguenze ma questi stanno lì a pensare a Huawei e alla vittoria della povertà che ricorre esattamente da un anno abbiamo sconfitto la povertà con il decreto contro la povertà vabbè roba da pazzi tre cose divertenti ve le segnalo Galli della loggia sulla scuola dice ragazzi attenzione perché la scuola non è una questione soltanto finanziaria e anche e soprattutto la scuola è una questione di insegnanti che sono oggi non adottano due cose che vengono considerate reazionarie disciplina e merito e fa l'esempio della scuola tedesca in cui addirittura per passare dall'alimentare i 4 anni alle medie c'è bisogno di una scelta c'è bisogno di un esame c'è bisogno di un merito e molto interessante Galli della loggia insomma un vecchio reazionario verrebbe da dire certo non reazionario ma altrettanta bella è l'intervista che vi segnalo a Vargas Llosa fatta da come si chiama da Mingardi sul Corriere della Sera beh stupendo l'unico scrittore che preferisce la Thatcher a Castro questo è il titolo ma il pezzo è pieno di deliziose chicche per noi liberali a partire dal suo atteggiamento nei confronti del lockdown e ultima cosa beh straordinario Feltri vi ho fatto vedere un video tra poco lo vedrete lo vedete sul sito in cui metto insieme Concita De Gregorio che discute con Sallusti e in maniera molto ironica Feltri se la prende con Sallusti dice Sallusti ma perché te la prendi con Concita e le dai del tuo e la chiami Concita ma smettila questa è un'eroina la devi chiamare compagna e la devi sempre ringraziare per i suoi meriti incredibili cioè quello di aver fatto fallire lei c'è riuscita l'unità il giornale dei comunisti quindi Feltri sgrida Sallusti perché una donna che è riuscita a far saltare e fallire il giornale dei comunisti merita un monumento equestre questo lo aggiungo io vi aggiungo che sul sito nicolaporro.it trovate tutto il resto di informazione di una giornata che comunque sui giornali è moscia ma speriamo che oggi si animi un po' ciao